facciamo partire questo vlog come facciamo partire oggi non ho ancora fatto niente e siamo a verona da albi e tra poco andiamo a ballare reggaeton perché a noi ci piace tanto dei ballerini nati e tra l'altro vorrei dire che nel venire in qua verso verona albi in autostrada quasi tirato sotto un gatto ma qualche pelo ti ha fatto un micino bianco poverino bastardo ci faceva in autostrada poi non lo so giocava mosca cieca davvero mamma mia regalo di compleanno di albi da parte di sua sorella e sua mamma oh cazzo ah ma il video in diretta perché lui è il mister in diretta giusto certo in diretta va tutto nel blog di gallo il blogger io mangio la torta perché allora ovviamente gatti mamma mia c'è quasi mila donne gatti provi che suona cosa non do bene qua vabbè la mattina non ti sbagliai questa capigliatura libro sui gatti e altra batteria chiara falsinova non chiede sua sorella alberto è un gatto il suo gravatte quando quando devo suonare potrebbe essere migliante si guarda questo che figata non ti ho mai visto usare gravatte manfredi qualcosa in siciliano che figata un tocco biglio biglio tocco biglio biglio dove lo attacchiamo attacchiamo nella mia camera come la tua camera che cazzo ti tieni l'orologio in camera ma che in cucina beh 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 una bottiglia vera sì sì schiacciata e poi questo è una delle coppie capito si sono diretto buttando verso il bagno e ho cercato tutto questo è oro cazzo mamma mia cosa che fai? dobbiamo tagliare via questi capito? io dovrei prendere quel armese e io... ma sei matto? stai scherzando spero? no dai ma sei fuori? ma non sono capace mi faccio devi solo fare... allora tu tieni l'occhio ma non c'hai una forbice scusa? no dai facciamolo col col tempo no io io non mi fido ma apri? questo è meglio? no questo è l'outfit dillo tu com'è questo outfit? etero etero l'outfit è etero per eccellenza così vabbè taglio qua? taglia forte grande cazzo eh? taglia forte anche di qua ma perché sta camicia sta roba poi mi devi spiegare? non lo so alcune camicia ce l'ho andata ma cosa serve? e serve che hai il bottone di sopra qua e tu facendo così ah geniale e il risvoltino la camicia e il risvoltino per fare il risvoltino la camicia fantastico spiega al vlog cosa stai facendo allora sto cercando una cosa che mi ha dato mia sorella per il gallo ok e adesso ce l'ho in mano e sono pronto ma io so già perché tu sarai spifferato tutto già così devo solo vederlo posso far finta di essere sorpreso no una calamita a forma di gallo una calamita? non è una calamita cazzo è una toppa? è un adesivo? si è un adesivo è una toppa ma mi ha detto che posso incollarlo sulla chitarra è vero? che tipo è adesivo dietro? forse si togli quello non togli adesso che poi non si incolla più un maronna no? no questa mi sa che devi scaldarlo una volta che si scalda si scioglie e ti si attacca è abbastanza l'accendino per scartare o dici che brucio tutto il coso qua vabbè troverò il modo troverò grazie Roby grazie grazie a te e a tua sorella e l'affascinato a Wonderlust esatto su facebook oh basta hai finito? no si vede poco no? no si vede si vede vieni a vedere ti faccio vedere che si vede questa sera questo ragazzotto fa quanti 26 anni? 26 anni per un cazzo ma che ora per un cazzo guardalo come è messo adesso dai che c'è la musica cosa vuoi che arriva fino qua a dir carica musica? Roby ti vedo provatino dal tuo compleanno giusto così ti sei divertito? si ballato? si sta bene buonanotte buonanotte e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti